allora ragazzi dopo il tutorial del lavaggio degli interni vi insegno come pulire il motore la mia tecnica è con la coca cola quindi come negli interni bisogna versarla un po' ovunque soprattutto sulla centralina in questo modo nell'alternatore fondamentale proprio dentro l'alternatore poi vabbè la batteria devo ancora montarla quindi qua in tutto il gruppo bobine nei relais chiaramente fatti in questo modo e poi con un pennellino andate a pulire tutto chiaramente qua dal tappo dell'olio motore soprattutto la centralina perché è fondamentale pulire bene la centralina tutti i vari pezzi di rame all'interno dell'alternatore e questo è il metodo più infallibile io l'ho visto in un tutorial di youtube cinese non so se sia la cosa più efficace in assoluto però a me sembra che venga molto molto bene tutti gli scettici che dicono che rimane appiccicoso assolutamente no soprattutto la centralina la centralina proprio gli fa bene ai cablaggi e tutto quanto seguitemi per altri consigli